Porco il lama Una sola partita dovreste giocarla Ma adesso vi spiego con calma Allora prima di tutto ragazzi andate nei link in descrizione Per il gruppo che abbiamo creato ieri notte Uevelox, il gruppo facebook Della community italiana di COD Vi rispondiamo nei commenti, diamo una mano Ragazzi si può spammare una volta al giorno i propri canali Una cosa utile per aggregare sempre più la community Comunque andate subito a iscrivervi Ora in questo istante Adesso parlando del metodo Devo fare una premessa ovvero che la cosa che vi serve qual è Vi servono i gettoni punti esperienza doppi Come si ottengono questi gettoni? Sono i gettoni che ottenete ragazzi mettendo i codici Che trovate nelle lattine delle monster di Infinite Warfare Sotto la linguetta c'è un codice Voi lo inserite e vi darà questo gettone punti esperienza doppi Che sono ragazzi i gettoni che hanno usato i Doom The Race Per arrivare i primi al mondo al decimo prestigio Perché voi capite che Usandone una partita fate punti doppi Quindi se ci sono già i punti doppi Fate punti quadrupli Ora capite perché hanno già fatto il decimo prestigio ragazzi E' molto semplice così Quindi dicevo il problema qual è? E quegli anni hanno usato i 150 In Italia invece non li ho trovati 150 non li comprirei mai per carità Perché sono soldi buttati penso Però voi mi avete detto che esistono anche in Italia In tutto il resto del mondo visto ci sono E quindi fortunatamente la mia ragazza Che sta studiando questo periodo in Germania Daniela Tiamo Mi ha trovato delle lattine E mi ha dato 7 codici Ora cosa è successo? Io non li stavo utilizzando subito Perché stavo aspettando di fare una grossa partita Per riuscire a farlo E riuscire a raddoppiarli Soprattutto che mi sono accorto di una cosa Assieme con Slifer Che mi ha dato una mano Praticamente se voi raddoppiate i punti di una partita Mettiamo ha fatto una partita da 30.000 punti Non è questo l'esempio che vi sto facendo vedere Perché qua ne ho fatti meno Cosa potete fare? Dopo averli raddoppiati Uscite dalla lobby Poi entrate in un'altra lobby Della stessa modalità Quindi se facciamo postazione Facciamo che rientriamo a cercare una modalità postazione E appena entrate in partita Quittiamo subito la lobby In quel momento ragazzi Ci darà di nuovo il riepilogo partita Con la possibilità di raddoppiare di nuovo i punti Quindi ripetiamo Riepilogando un attimo ragazzi Voi fate una partita da 30.000 punti Ok Finita la partita Li raddoppiate a 60.000 Adesso voi uscite da quella lobby Rientrate in una lobby della stessa modalità Uscite appena la partita incomincia E istantaneamente Cliccate il riepilogo partita Di nuovo quadrato E farete altri 60.000 punti Cioè raga senza giocare È come un modo per fare circa 60.000 punti In 30 secondi Cioè capite che è una follia Ora io ripeto Noi magari Io ragazzi non posso neanche utilizzarlo Nel senso che avendo 5 codici Non mi fa nessuna differenza Però se qualcuno ha davvero centinaia di codici Può farsi tutti i prestigi In pochissimi minuti In un'ora In due ore Non lo so Una cosa del genere Quindi capite raga Che è un errore di gioco Abbastanza grave Dato che sono tante le persone Che hanno così tanti soldi da spendere Però Magari in pochi Se ne erano accorti Io ho detto Nella spianza Che magari lo pacino Tanto ripeto Io non ho la possibilità Di surtarlo Quindi Chi se ne frega L'ho detto così Semplicemente per dirlo Quindi raga Questo video qua In realtà È già finito Perché è un errore Del quale ci siamo appena accorti Quindi Niente di che Vi consiglio anche di passare Nel link in descrizione Del mio grafico Perché sta facendo un contest Nel quale potete vincere Una intro Quindi raga Per questo video è tutto Ci vediamo stasera Con un nuovo video Che sarà magari Uno sniper first Dei su code 4 Fatemi sapere nei commenti Se vi va E niente raga Porco il lama a tutti Ciao ciao Ron è sexy Porco il lama E niente di che